Bentornati su MyFootballJersey. Oggi guardiamo insieme, vediamo insieme, questa bellissima maglia della Lazio, la seconda, in edizione FAN. Sì, vediamo insieme. La maglia non è niente male, di un bellissimo blu, con queste sfumature, con queste righe nella trama del tessuto, è veramente molto bello. Una maglia semplice ma molto elegante. Il costo, come al solito, lo vedete qui sopra, vi ricordo che include anche le spese di spedizione. Se volete maggiori dettagli trovate tutte le informazioni qua sotto nella descrizione del video. Andate a vedere perché potete trovare anche un link per ottenere un coupon da 5 dollari, quindi il costo di prima diventa ancora più basso. Se volete vedere tutti i giorni recensioni come queste, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Per oggi è tutto, alla prossima! Ciao! Ciao!